Ciao a tutti e benvenuti, come sapete questo è un panel su un tema molto caro, molto sentito da noi che è appunto il tema della casa, della politica abitativa. In realtà abbiamo organizzato la session in modo da considerare due macrotemi che in realtà vediamo come fortemente interconnessi. Da un lato quindi la casa, il diritto dell'abitare, le politiche abitative. In particolare con attenzione veramente a tutte quelle classi maggiormente deboli e che ancora più deboli sono diventate a seguito della crisi. E a cui purtroppo il pubblico spesso non riesce a dare una risposta, quindi tutta l'edilizia residenziale, tutta la partecipazione degli enti in realtà continua a non essere una risposta vera per queste classi che poi sono andate aumentando. Quindi pensiamo anche a giovani, pensiamo anche a anziani, eccetera, eccetera. E quindi ci ricollegheremo in realtà su questo a un nuovo modello anche di abitare che prevede che in realtà si inserisce in quell'idea di sharing economy, di community, di cittadinanza attiva. Vedremo poi ci sarà un intervento anche su questo. E che quindi riesce a dare con nuovi modelli di abitare una risposta alternativa non solo al problema dell'abitare. Pensiamo alle forme di co-housing, pensiamo ai community land trust che sono tutte strutture partite in realtà dagli USA ma ormai spostatesi anche in Europa, a Londra c'è un grande distretto su questo e che piano piano stanno cominciando a svilupparsi anche con esempi molto interessanti perso a Portofluviale a Bologna, anche in Italia, che comunque è un paese che in termini di partecipazione della cittadinanza non è affatto da meno rispetto a altri stati europei. Per certi versi forse non ce lo diciamo abbastanza, quindi può essere anche un momento carino per ricordarselo. Allo stesso tempo avremo una prima parte del panel con l'amico David qui al mio fianco che ormai non mi abbandona più, che ci farà un po' un'introduzione più forte sulle politiche abitative. Avremo poi la partecipazione di Massimo Pasquini dell'Unione Inquilini che lì magari ci può anche iniziare a raggiungere visto che... Facci compagnia, noi ci sentiamo soli qui così. Perché ci parlerà in realtà di come forse ci sono stati una serie di errori a partire dallo sblocchi tale e ci darà qualche idea politico, legislativo, abitativa per una cosa impegnativa, per appunto ridare casa alla casa, ridare una casa a tutti. E passeremo poi, in realtà avremo un esempio che però mettiamo alla fine perché purtroppo viene da Milano in giornata e quindi sposteremo alla fine ma ci va bene perché in realtà ci presenterà diciamo quello che è stato un case study poi seguito anche da possibile Milano con un progetto appunto di questo tipo di modello innovativo di abitare, chiamiamolo così, che è stato fatto a Milano che è Walter Monteni. Avremo poi una parte appunto maggiormente focalizzata sull'urbanissia, sulla riqualificazione urbana perché? Perché in realtà il problema dell'abitare si ricollega ovviamente alla riqualificazione urbana nel senso che noi presentiamo, intendiamo presentare un modello di riqualificazione urbana fortemente integrata, partecipativa, condivisa, per certi versi viene da dire bottom up e che quindi va ad includere al suo interno non più semplicemente quelli che sono i problemi di urbanistica classica ma che destinazione d'uso metto, lo faccio commerciale piuttosto che turistico ricettivo, piuttosto che residenziale ma inizia a diventare un piano vero di sviluppo dei territori questa cosa in Italia guardate che ancora assolutamente non c'è noi peraltro abbiamo un testo unico dell'edilizia che pesale a un po' di tempo fa e abbiamo una normativa urbanistica che ha ancora un problema forte di innovazione secondo me per andare appunto a includere in se stessa tutti quei aspetti che bisogna necessariamente tener conto quando si va a sviluppare il luogo dove viviamo alla fine perché? Perché immaginiamo di fare un modello di co-housing all'interno di una caserma quello non risponde solo a un'esigenza abitativa ma va a chiamare una serie di servizi quindi avremmo bisogno banalmente che un autobus ci passi davanti quindi problemi di mobilità quindi avremmo bisogno che l'energia arrivi in un certo modo che sia efficiente energeticamente quindi avremmo bisogno di attivare diciamo tutta una serie di aspetti che poi fanno parte di quello che generalmente definiamo come riqualificazione urbana e quindi lì avremo in particolare Niccolò Pieri che vedo lì a sinistra che ci parlerà diciamo in maniera abbastanza generale di riqualificazione urbana avevo detto prima appunto Marco Valenti che ci farà un'introduzione sui modelli di cittadinanza attiva applicati in particolare alle smart city avremo vetrito di critica liberale anche lui su questo tema e dell'avventura che ci parlerà del problema in realtà del terremoto e di come diciamo di quali sono le possibili politiche per migliorare la sicurezza concludo solo dicendo diciamo che come introduzione mi sembra sufficiente no vi volevo solo raccontare che io e Davide abbiamo iniziato a formulare un po' di proposte su tutto questo che sono presenti su un documento che abbiamo elaborato ormai da un pochino per la verità qualche mese che dovrebbe essere sul sito di Possibile e che ha diciamo cerca anche lì di è più focalizzato sul tema della casa ovviamente non su quello della riqualificazione urbana e che prova a individuare un po' di misure per risolvere sostanzialmente per aiutare a risolvere il problema del disagio obbligativo anche con un piccolo benchmark internazionale anche con alcuni esempi di co-housing appunto vi raccontavo Porto Fluviale e ma che forse nell'introduzione generale diciamo lascerei a questo punto a Davide la parola per spiegare meglio qual è la nostra idea grazie allora grazie a tutti grazie a tutti